Un clima di tensione che non cenna stemperarsi e trani. Un nuovo atto intimidatorio stava per essere recapitato a Palazzo di Città. Una busta con due cartucce calibro 9 è stato infatti intercettato dal centro meccanizzato postale di Modugno e consegnata ai carabinieri che hanno avviato indagini per cercare di risalire al mittente e soprattutto far luce sulle motivazioni di tali minacce che continuano a ripetersi destabilizzando la sanità del Palazzo Comunale. L'amministrazione cittadina ancora una volta nell'occhio del ciclone, questa volta il destinatario della preoccupante missiva, l'assessore comunale di Trani, Deborah Ciliento, con delega al personale, politica per l'infanzia, rapporti con le associazioni, finanziamenti regionali e comunitari, rapporti con gli enti locali e pari opportunità. Solo due settimane fa un altro episodio analogo con un'altra busta contenente proiettili bloccato al centro smistamento di Modugno indirizzato al sindaco Medeo Bottaro che guida una giunta di centro-sinistra. Qualche giorno prima, inoltre, un uomo in preda a un forte stato di agitazione per la mancanza dei lavori e conseguenti disagi familiari, aveva quasi sfondato una delle due vetrate della porta d'ingresso dell'ufficio di gabinetto del sindaco pretendendo di parlare con il primo cittadino. Alta la tensione in un periodo non certamente facile per la giunta Bottaro, alle prese tra l'altro negli ultimi tempi con la stabilizzazione di alcuni lavoratori precari dell'AMI o SPA e la decisione di avviare entro fine marzo la ricapitalizzazione della stessa società ex-municipalizzata. Accertamenti tecnici sono rincorso da parte della sezione investigazioni scientifiche dell'arma.